Ascolti TV di lunedì 10 ottobre 2022, chi ha vinto la gara della prima serata? Sera e una ha trasmesso la seconda puntata di Sopravvissuti, la serie con lino guanciale tra i protagonisti Canale 5 ha schierato il grande fratello VIP, ormai tradizionalmente fissato nel palinsesto della rete Ammiraglia Mediaset nel primo giorno della settimana, oltre che al giovedì Come pure la scorsa settimana, anche nel suo settimo appuntamento il reality condotto da Alfonso Signorini ha registrato uno share maggiore rispetto alla fiction concorrente, in calo di 4 punti rispetto al debutto, 2 730.000, pari al 20,9% di share, sono stati telespettatori sintonizzati sulle dinamiche dei VIP protagonisti del programma, mentre 2 753.000 spettatori, 15,1% di share, sono stati quelli sintonizzati su Rai 1 Ascolti TV di lunedì 10 ottobre 2022 per quanto riguarda le altre reti, su Rai 2 stasera tutto è possibile è interessato 1 502.000 spettatori pari al 9,6% di share, su Italia un peppermint, l'angolo della vendetta ha catturato l'attenzione di 1 417.000 spettatori, su Rai 3 presa diretta ha raccolto davanti al video 1 444.000 spettatori pari ad uno share del 7,6%. Rete 4 con Quarta Repubblica ha raggiunto 891 0.000 spettatori con il 6% di share, la 7 con True Lies 468.000 spettatori, 2 8% TV8 con Gomorra, la serie 352.000 spettatori e 9 con Little Big Italy 559 0.000 spettatori, 2,8% 0.000 spettatori, 2,8%